ecco anna che gioca con un porcellino di terra ecco qua il porcellino di terra sul braccio di anna che ne studia i movimenti ecco qua l'ha fregato lui cercava di trovare la fine della della mano di anna per poter tornare a terra e invece anna ha girato e il porcellino è rimasto fregato eccolo è caduto mi scappa e io lo prendo sulla mano bellissimo troppo vicino se no va fuori qui fuori qua ecco ha fatto una palla via adesso lo puoi rimettere a terra e cerchiamo un altro insetto ok